L'esposizione dell'artista Andrea Losio è una mostra all'avanguardia che tratta nuovi modi espressivi di concepire l'arte che si lega a tematiche d'attualità come il riciclo del materiale di scarto e l'inquinamento ambientale. Questa mostra nasce da un lungo progetto di ricerca dei materiali, particolari materiali, perché si tratta di componenti plastici che tu hai assemblato con arte, ridando vita ad oggetti di scarto, facendo rivivere in questa mostra. Ecco il nome della mostra appunto Relive. In questa tua personale, da dove è scaturita quest'idea? Mi piace pensare che i materiali buttati, che erano abbandonati nel grigio delle nostre città, rivivano attraverso l'arte, rivivano attraverso i quadri. Sì, può essere anche un discorso ecologico, un discorso green, però mi piace che loro prendano vita sulle tele, che prendano vita rivivendo veramente un'altra vita e questo mi piace molto. Le tematiche che assegni alle tue tele spesso si agganciano a personaggi della società odierna, personaggi moderni che crei con componenti di scarto, con le schede chip, i bulloni, i fili elettrici, che assemblati stanno bene esteticamente e danno vita ai personaggi dei tuoi quadri. Come lavori questo materiale? Il materiale in realtà sono tanti anni che colleziono, metto via questo materiale che veniva buttato. Poi quando si tratta di tirarlo fuori è come se fosse veramente una tela di un quadro, nel senso che un action painting ragionato è da lì che poi scaturisce una forma, che di mano in mano può diventare un'altra forma. Quindi potrebbe essere un quadro astratto, ma potrebbe essere anche figurativo. Quello si decide in fase d'opera, possiamo dire. L'importante è dare un'armonia al tutto. Ecco, da dove partono le idee per comporre i tuoi lavori materici? Dai materiali disponibili o dall'idea di voler creare il personaggio, come appunto il consulente, la casalinga, l'uomo che va alle urne, il brezzino di porta ticinese, la ragazza vegana? Queste sono le tematiche dei tuoi lavori. Ma in realtà ognuno di noi ha un'esperienza di vita precedente, quindi tu hai una memoria, le persone possono avere una memoria, quindi probabilmente sì, nella mia vita personale, ma anche nei viaggi, poi ritornavo nella mia città, nel mio paese e cercavo di raffigurare una persona che ho visto. Quindi ho scelto i materiali riciclati perché questi mi piacevano perché sono colorati, sono geometrici ed è bello anche pensare di fermare un'immagine su una tela anche con questi materiali. Le tue creazioni sono un misto tra geometria calcolata nel creare le forme e le macchie di colore. pensi di aver trovato l'equilibrio giusto per la tua identità, cioè la capacità distintiva che si associa all'identità, come per un marchio, per un marchio di fabbrica? Ma in realtà l'identità è sempre difficile da trovare, vorrei trovarla, ma credo che sia la vita in generale sia sempre un'evoluzione. Ogni giorno è diverso da un altro, domani è un altro giorno. Sì, mi piace molto fare delle cose geometriche, utilizzare i materiali riciclati e creare forme, però sinceramente ogni tanto ho l'esigenza di fare dei grandi quadri di vernice gettata, come una liberazione in realtà. Quindi questa tua liberazione, questa tua arte, si potrebbe definire trash art? Oppure altrimenti la definiresti semplicemente arte contemporanea? Dunque il discorso trash, spazzatura, in inglese può essere interessante, cioè quello che non diventa un rifiuto va su un quadro, per cui possiamo utilizzare i rifiuti, almeno quelli sani per produrre arte è interessante ed è anche ecologico. Quindi è una cosa che sicuramente mi piace. Mi piace pensare che anche queste cose poi hanno una seconda vita e mi piace pensare che anche noi possiamo avere una seconda vita e anche una seconda possibilità in futuro, come l'arte. Quali sono le culture nel mondo che ti affascinano maggiormente e per cui nutri un certo interesse? Il mondo è tutto bello, secondo me. Il mondo è rotondo e le culture sono ognuna particolare per ognuna e quindi a est, a ovest, nord, sud puoi trovare sempre spunti e soprattutto è bello questo scambiarsi, queste energie che vengono anche scambiate. Per cui io imparo da loro, loro imparano da me. Questo è una cosa che mi interessa molto. Ecco, e quante sono le creazioni in un anno che riesci a realizzare? Beh, come tutti noi nella vita dipende un pochino dal susseguirsi delle cose, possono quantificare in un numero, non ti saprei dire, possono essere, potrebbe essere anche una, che però è un'opera veramente potente, è un'opera veramente interessante, potrebbero essere anche venti. Quindi non oserei parlare di numeri, ma parlare di energia che viene poi spinta sul lavoro e che viene tramandata e scambiata. La tua famiglia ti supporta nelle tue scelte e nelle tue decisioni? Viaggi molto? Ma in realtà la mia famiglia mi ha sempre supportato sicuramente, è sempre stata vicina all'arte, ha ritenuto sempre che l'arte fosse una cosa importante e per cui mi ha supportato non tanto a livello finanziario ma a livello di idee, mi ha sempre spronato a fare delle cose e di questo sono veramente contento. Ecco, una domanda, quali sono le correnti artistiche che preferisci? Quelle che invece ti piacciono meno? Ma dunque, io sono nato negli anni 70 e ho un percorso di vita un po' legato al mondo pop, possiamo dire, per cui la pop art mi ha sempre interessato e però cerco anche di capire sempre più andando avanti anche l'arte antica, anche forse, però sicuramente sono attirato dall'arte contemporanea, dall'arte astratta, ma anche dalle geometrie. Poi ultimamente stanno nascendo nuove correnti dove c'è sempre da imparare, nuovi spunti. Ecco, secondo te in Italia si fa abbastanza per la valorizzazione dell'arte e delle discipline culturali? Dunque, potrei citare un design famoso che si chiama Philippe Stark che dice anche con un accento francese, l'Italie è un po' il centro del mondo, è come se fosse un compasso, la punta del compasso è l'Italia e tutto ruota intorno. È vero, noi abbiamo delle grandi potenzialità e sicuramente vanno risvegliate in tutta la città. Milano, secondo me, negli ultimi sette, otto anni, forse anche dieci, ha fatto grandi passi. Molti artisti sono presenti sul territorio e quindi trovo che sia una cosa veramente interessante. E il tuo tempo libero, Andrea, come preferisci organizzartelo? Ma dunque, in realtà in passato ero un pochino più spenserato, ho dedicato molto viaggiando, possiamo dire. Adesso mi sto dedicando più a stare nel territorio lombardo, posso dire, per cui cerco di parlare anche con vecchi pensionati, sono curioso delle storie antiche, alcuni nonni che dicono prendi l'arte e mettila da parte, quindi sono interessato anche molto alla mia cultura. Ecco, delle tue creazioni, tornando al tuo lavoro, quali sono i soggetti che preferisci tra tutti quelli che hai creato? Ma, ripeto, a volte ho risposto che in precedenza, anche se non si poteva tanto dire, non conosco il significato di lavori che faccio, però in realtà quando fai delle cose e poi le metti insieme a volte sono altri a trovare un significato e leggono una forma, soprattutto sull'arte astratta. Sguardo al futuro, che è un quadro qui presente ultimamente, è un profilo di una persona che guarda un caos verso il futuro e lì ci sono tante cose da vedere. Ecco, l'ultima domanda, la tua filosofia di vita? La mia filosofia di vita è sicuramente essere rispettosi dagli altri, essere rispettosi dell'ambiente e cercare sempre, non dico di migliorarsi, ma essere presenti e con gli occhi aperti sul territorio per vedere tutte le belle cose che il mondo può offrire. Grazie mille Andrea, grazie. Grazie a voi, ciao. Posso affermare che questo evento, proprio per i suoi contenuti con elementi che si distinguono, è da ritenersi altamente innovativo. Complimenti alla creatività dell'artista Andrea Losio.